Ardo Sciascia, come dicevo anche con Capitano Cadano, è arrivata una vittoria che cercavate da tanto tempo. Non è stata una partita semplice, però ce l'avete fatta. Sì, esatto. È stata una partita di grande intensità, perché comunque gli avversari hanno attaccato tanto tanto, soprattutto nei primi cinque minuti dove stavano spingendo avanti. Però comunque, grazie ai miei compagni di squadra in difesa, siamo stati molto bravi a respingerli e a portare avanti, a cercare la profondità. Alla fine, pian piano, insieme ci siamo riusciti. Oggi siamo riusciti a portare questi tre punti a casa, che non portavamo da tanto tempo. Siamo molto contenti da questo punto di vista. Ecco, oggi siete riusciti anche a non subire gol, non capitava da un po' di tempo, quindi una soddisfazione in più anche per te. Sì, esatto. Devo ringraziare soprattutto i miei compagni difensori, perché mi hanno aiutato tanto loro. Mi chiamano fisso alla palla, mi aiutano. Io comunque oggi ho cercato soprattutto la profondità, perché loro venivano ad attaccare molto alti. Quindi gli facevo salire e siamo stati tutti bravi, dal primo all'ultimo. Ecco, ti chiedo cosa ti aspetta. Adesso mancano chiaramente due partite al finale, però cosa ti aspetti, cosa vi aspettate in generale per questo rush finale? Noi come sempre dobbiamo puntare a vincere, perché comunque altri sei punti ci fanno comodi per la classifica. Per cercare di arrivare ai play-off, ma anche se non ci arriviamo, comunque arriveremo orgogliosi a fine campionato. Ecco, in chiusura ti faccio però una domanda, perché in settimana è arrivata anche la convocazione con la selezione Under-16. Che soddisfazione è questa? È la tua prima stagione tra i grandi, però questo è un altro tassello che si aggiunge. Sì, esatto, adesso lo colleziono. Sì, sì, molto bello, non me lo sarei mai aspettato. Piano piano adesso cerco di puntare sempre più avanti.